Baccalà, asparagi e trota del Brenta per non parlare di tutto il resto. Le eccellenze gastronomiche bassanesi e vicentine sbarcano a Marghera per portare all'attenzione del Veneto, a margine della quotidiana conferenza stampa di Luca Zaia, il loro scrigno di bontà. Abbiamo portato i piatti principe della stagione, quindi gli asparagi di Bassano, abbiamo portato la trota del Brenta, abbiamo portato anche il baccalà alla vicentina che è il piatto per eccellenza d'eco della provincia, e tante altre cose in degustazione. Perché oggi? Perché è finita la stagione degli asparagi ed era un riferimento importante per l'economia enogastronomica bassanese. Quest'anno purtroppo è stata una stagione molto negativa. Quel che manca dal punto di vista dei ristoratori vicentini e bassanesi è la convivialità, il gusto dello stare assieme che contraddistingue da sempre la tradizione culinaria veneta. Oggi purtroppo manca la convivialità, che è l'elemento per cui la gente va fuori a mangiare. Ci sono ancora troppe insicurezze, troppi divieti, e quindi quando viene meno la convivialità viene meno anche il fabbisogno di andare fuori a mangiare. Oltre alla convivialità mancano, con un'importante ricaduta sui conti dei ristoratori, interi capitoli del bilancio del settore. Quello che manca oggi è proprio la banchettistica, quindi gli eventi, gli avvenimenti, perché? Perché ancora sono proibiti gli assembramenti, quindi anche questo è un fattore importante. Manca anche tutta la parte turistica, che anche questo è rilevante nel nostro settore. Quindi, ripeto, una ripresa c'è, ma molto molto lenta. Oggi possiamo quantificare le presenze in circa un 30% rispetto a prima.